Via libera i test rapidi di terza generazione per il Ministero della Sanità sono attendibili alla stregua dei molecolari. Il documento del governo per il Veneto ha grande importanza. A inizio pandemia i 14 laboratori della regione processavano 2.000 test molecolari al giorno, oggi 18.000. Ma è grazie ai 35.000 test rapidi che si riesce a compiere un controllo di massa. Quelli di prima e seconda generazione danno una quota di falsi negativi. Quelli di terza generazione sono molto più precisi. Questi test danno una sensibilità e una specificità molto elevati. Devo dire che da noi li usiamo già da circa 2-3 mesi per lo screening dei sanitari. Nuovi studi interessano poi i test molecolari. In particolare i guariti che risultano positivi anche a distanza di settimane in realtà non sarebbero pericolosi per gli altri. Sta emergendo che quando noi facciamo la biologia molecolare in pazienti che hanno sviluppato la malattia e che si trovano al 13-14 giorno, in realtà la positività che è rilevata in biologia molecolare non è sovrapponibile all'infettività. Se confermato, ciò eviterebbe lunghe quarantene ai guariti che non si negativizzano.